Il mondo è sempre corso verso un baratro. La storia ce lo ricorda continuamente. Non possiamo dire che ieri era meglio di oggi eccetera. Ogni epoca ha le sue difficoltà. Se dobbiamo fissarci solo sul baratro non mettiamo al mondo più figli. Ci sono dei movimenti che cercano di colpevolizzare chi fa figli. Forse dimentichiamo che ogni persona è unica ed irripetibile e che è destinata a lodare Dio in eterno. L'ottica della fede ci aiuta a mettere a fuoco il motivo per cui esistiamo. Conoscere, amare e servire Dio in questa vita per poi volerlo nell'altra. Se il padre creatore fosse stanco dell'uomo potrebbe nella sua onnipotenza fare in modo che non nascano più persone. Invece la sua creazione si perfezione in ognuno di noi ed in quelli che vengono al mondo. Ognuno di noi ha una croce da portare, ma i frutti sono inimmaginabili. Lo sapremo solo nell'altra dimensione.